Un taglio di 140 milioni di euro nei trasferimenti alla sanità non sono elemento di poco conto e razionalizzare i fondi disponibili in tale stato di cose ancor meno. Per questo è stata accolta con soddisfazione la notizia dell'accordo raggiunto tra Regione Veneto e strutture private accreditate per lo stanziamento di 25 milioni ai centri convenzionati. Si tratta di un segnale incoraggiante anche se non ovviamente risolutivo per il destino di un comparto importante mobilitatosi in tutta la Regione con varie manifestazioni che però sconta la riduzione dei trasferimenti con tagli dolorosamente significativi al personale. Dell'argomento si occuperà direttamente il Consiglio regionale Veneto in una seduta fiume prevista giovedì 11 aprile. In mattinata la Commissione Sanità presieduta da Leonardo Padrin incontrerà i rappresentanti dei centri della sanità privata accreditata, dei lavoratori e i direttori generali delle USL dove la presenza di strutture convenzionate risulta più consistente. Nel pomeriggio la Commissione affinerà la proposta di legge già abbozzata dallo stesso Presidente Padrin che intende riorganizzare il settore e rivedere il rapporto pubblico privato. Non possono essere i lavoratori dei centri convenzionati o i cittadini a pagare il prezzo della mancata programmazione dei rapporti tra pubblico e privati in sanità e di errori aziendali, ha dichiarato Padrin per il quale la riduzione del 30 per cento dei budget assegnati alla sanità privata sta innescando una conflittualità senza vie di uscita tra pubblico e privato e tra imprese e lavoratori.